Si è aperta tra le contestazioni la stagione teatrale del San Carlo. Durante l'arrivo degli spettatori un gruppo di manifestanti ha messo in atto una protesta proprio davanti allo scalone principale del teatro. Sono ragazzi, sono l'orgoglio della nostra città, ha detto il sindaco De Magistris. Sono ragazzi che stanno facendo tanto per cambiare Napoli. A proposito di quello che parlavamo prima, ragazzi che non aspettano lo Stato, le istituzioni, ma stanno facendo tanto dal sociale, con una mobilitazione popolare per dare vita, ossigeno e aria fresca e pura a questa città e credo che si possa ancora dissentire. Così come io sto dissentendo, ma molto sommessamente, di fronte a due colossi come Santoro e Saviano immagino che anche loro possono, dal canto loro, dissentire di fronte a un governo che è sempre più intollerante a ogni forma di dissenso. Questo è evidente. Oggi si apre la stagione teatrale con l'hotello. Stiamo qui per vedere un'opera artistica, spero e mi auguro, eccellente e non per fare politica qui al San Carlo. Presenti tra gli altri il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che passa davanti al sindaco e tira dritto per raggiungere il suo posto accanto alla ministra.